Cari amici, oggi ci occuperemo dei dubbia, gli ultimi dubbia posti dai cinque cardinali qualche tempo fa a Papa Francesco. Ci ricorda com'è andata Don Alfredo Morselli in un articolo pubblicato su Stiluncurie di Marco Tosatti, dubbia dei cardinali, problematiche di una non risposta. Allora, una prima versione di questi dubbia, cioè quesiti, era stata presentata Bergoglio il 10 luglio 2023. La risposta del Papa, scrive Don Morselli, ai primi dubbi è stata immediata, ma siccome tale risposta non è stata consona al modo secondo il quale si risponde ai dubbi, con un sì o con un no, e neppure esaustiva, in pratica è stata una non risposta, i cardinali hanno riformulato le domande e le hanno nuovamente presentate nella speranza di ottenere dei risponsi finalmente adeguati e soddisfacenti. Allora, il cardinale Victor Manuel Fernandez ha ottenuto dal Papa il permesso di rispondere utilizzando stralci dal precedente scritto. Ma questa risposta, più che un chiarimento, è stata un poco elegante copia in colla e quindi, ancora una volta, Bergoglio vi ha fatto fare la figura dei cioccolatai. È ovvio, no? Voi andate a presentare dei dubbi, dei quesiti a uno che Papa non è, peraltro è pure un gesuita, ha il compito di distruggere la fede, fare a pezzi la Chiesa di Cristo, che cosa vi aspettate? Che vi risponda sì o no? Allora, purtroppo, anche questa volta, i cardinali sono stati turlupinati e purtroppo messi in ridicolo, perché alcuni di loro sono delle degne persone, dall'antipapa. È ovvio, no? È un confronto asimmetrico. Io non posso chiedere a un terrorista sequestratore, scusi, gentilmente potrebbe liberare mio figlio dal sequestro, eccetera, eccetera. Ma se quello è un terrorista sequestratore, che fai? Gli mandi una gentile richiesta scritta? Ma a che senso ha? Quello è un antipapa usurpatore e voi non dovete presentargli dei dubbi, a voi gli dovete presentare la Universi Dominici Gregis e convocare il conclave e poi farlo arrestare dalle guardie svizzere. Questo dovete fare. Altro che dubbia. Altro che dubbia. Allora, in molti, perché poi ci sono molti che vedono sempre di buon occhio questi vescovi Strickland, Schneider, Viganò, questi cardinali dei dubbi. Eh no, ma adesso loro sì che sono saggi, loro sì che hanno una strategia. Eh allora, nel caso in cui Papa Francesco avesse risposto in modo assolutamente impeccabile ai dubbia, che cosa avreste concluso? Niente. Perché avreste comunque un antipapa, un antipapa che magari vi abbia delucidato su alcune questioni dottrinari, ma sempre antipapa rimane. Vi ricordo visto che qua si dimentica sempre la storia, che ci sono stati due antipapi santi, San Felice e San Ippolito, ma erano antipapi. Perché li hanno rimossi? Perché non erano stati eletti canonicamente. Quindi se Bergoglio avesse avuto il genio di rispondervi in modo assolutamente impeccabile, vi avrebbe gabbato ancora di più, perché voi vi sareste tranquillizzati ah, vedi che bello, Papa Francesco mi ha dato la risposta che mi aspettavo. E così lui rimane sul trono e continua a interrompere la linea successoria a Petrina. Capite? Però Bergoglio a queste sottigliezze non ci arriva e quindi vi ha dato una risposta che era un gremlo, per non citare quell'espressione notissima dal film comico Amici miei, vi ha dato questa risposta, sì, no, ma forse ancora, quando, dove, perché, tuttavia, eccetera, eccetera, ve l'ha data due volte, vi ha fatto fare una pessima figura, vi ha turlupinati e non avete concluso niente. Ma ripeto, anche se vi avesse dato una risposta assolutamente impeccabile, questo non andava minimamente a cambiare la situazione, cioè che lui non è il Papa, perché Benedetto XVI era in sede impedita, ok? Questo nel primo caso in cui Bergoglio vi avesse dato una risposta assolutamente perfetta e ortodossa. Secondo caso, immaginiamo che Bergoglio vi da una risposta, vi avesse dato una risposta sbagliata, eretica, clamorosamente eretica. E allora che cosa si concludeva? Ah, abbiamo constatato che Papa Francesco è eretico, e poi? Lo sapete che non c'è una procedura per deporre il Papa eretico, no? Ve l'ha ripetuto recentemente Monsignor Schneider, quindi ancora una volta sareste da capo a dodici. anche se Bergoglio vi avesse dato delle risposte sbagliate palesemente eretiche, comunque rimarrebbe lì come antipapa sul suo trono. Comunque la linea successoria sarebbe impestata dalla linea antipapale, comunque il prossimo conclave annovererebbe i cardinali di nomina antipapale, quindi falsi cardinali, quindi avreste comunque un prossimo antipapa. Quindi, riepilogando, nel primo caso Bergoglio vi dà delle risposte perfette, ortodosse, lui rimane antipapa e prosegue la linea successoria antipapale. Secondo caso, Bergoglio vi dà delle risposte platealmente negative, sbagliate, eretiche, rimane ugualmente al suo posto, ugualmente prosegue la linea successoria antipapale. Terza soluzione, che è poi quella che si è verificata, vi dà delle risposte che non sono delle risposte. Risultato? Lo stesso, lui rimane comodamente seduto sul suo trono, rimane antipapa e prosegue la sua linea successoria antipapale. Vedete? In tutti e tre i casi possibili, i dubbia vi mantengono antipapa Francesco, ve lo mantengono sul trono, vi manterranno la linea successoria antipapale. Questo è. Vi ripeto, per l'ennesima volta, l'unica cosa da fare è dire che il papa è morto, il 31 dicembre 2022, vere papa mortus est, e convocare il conclave in un numero minimo di tre cardinali autentici di nomina per il 2013. È difficile, abbiamo paura, ma poi papa Francesco come la... Questo è, questo bisogna fare. I vostri antenati si sono fatti squartare nei circhi per difendere la fede, i vostri antenati sono scesi in armi con le alabarde degli imperatori, eccetera, per rimettere sul trono il successore di Pietro. I vostri antenati cardinali si sono affrontati nei concili, nei sinodi, pur di rimettere sul trono un successore di Pietro valido. Adesso tocca a voi. Mi dispiace, purtroppo siete nati nel periodo sbagliato, vi è toccata questa tegola. Purtroppo se avete la veste rossa, è perché avete giurato di essere disposti a effondere il sangue per difendere la fede. Quindi, cari amici, non fatevi forviare da questi gatekeeper, volontari o involontari che siano. Bergoglio eretico è inattaccabile, Bergoglio che non risponde è inattaccabile, Bergoglio che risponde in modo positivo è inattaccabile. Quello che resta è che Bergoglio non è il papa e che se non si impugna la questione della sede impedita di Papa Benedetto XVI, vi dovrete tenere questo incubo per i prossimi secoli, con tutti gli annessi e connessi. Bene, come se ne esce, cari amici? Quello che potete fare voi. L'unica cosa che potete fare, l'ultima e l'unica che potete fare, è firmare e far firmare questa petizione dove si richiede ai cardinali per il 2013 di riconoscere la sede impedita di Benedetto e convocare il conclave. Questa è l'ultima e l'unica cosa che potete fare. Funzionerà? Non funzionerà? Io non sono in grado di dirvelo. Vi posso assicurare che nel piano teorico del congegno anti-usurpazione di Papa Benedetto, che fino adesso ha funzionato perfettamente, c'è lo spazio, c'è la possibilità, forse quasi comandata, che il popolo di Dio presenti questa petizione ai cardinali, questa vera e propria denuncia. È la stessa differenza che passa fra il subire un reato e fare la denuncia o non farla. Se voi non la fate la denuncia, non è detto che i vostri beni saranno recuperati, che i ladri saranno arrestati, non è detto. Però certo, se la denuncia non la fate, sicuramente al 100% non otterrete la refurtiva, che non vi sarà ridata la refurtiva, i ladri non saranno arrestati, eccetera. Sicuro, se voi non fate la denuncia, sicuramente questo non succede. Purtroppo, come vedete, l'intelligenza pseudo-cattolica, pseudo-conservatrice ci ha mollato e continuano a proteggere Bergoglio canalizzando il dissenso in modo artefatto, in modo truffaldino. Quindi l'unica cosa è mobilitarsi dal basso, mobilitare i laici, mobilitare le persone normoragionanti. Ecco, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Ci vediamo il 18 novembre in Sardegna, a Sassari, il 19 a Cagliari. Poi scenderò in Puglia il 23, forse si profila anche un'altra data in Puglia, però per adesso è confermato solo il 23. Poi ci vediamo il 25 novembre a Civitanova Marche insieme a Diego Fusaro, il 3 dicembre ad Asti con il professor Corrias, sarà molto stimolante, così come la conferenza insieme a Diego Fusaro e poi il 17 dicembre ci vediamo a Roma all'EUR con gli amici del gruppo di informazione Nessun Dorma. Grazie a tutti coloro che hanno voluto dare un contributo per sostenere l'attività tecnica di questo canale. Un caro saluto a tutti.